Vice Presidente Piana, allora com'è andata questa pedalata, questa ciclabile, finalmente una realtà? Meravigliosa, intanto una giornata meravigliosa, non poteva essere diversamente conoscendo la provincia di Imperia. Poi veramente un'opera importante e mi veniva in mente guardando i tanti giovani, i tanti ragazzi e ragazzine che oggi hanno approfittato per provare la nuova pista ciclabile di quante opportunità oggettivamente la politica dia, soprattutto le nuove generazioni, quindi dobbiamo continuare in questo senso qua, complimenti all'amministrazione comunale, complimenti anche a Regione Liguria per tutti i passaggi che riguardavano la nostra amministrazione e soprattutto una riflessione, una pista ciclabile unica, non si sa se pedalare in alcuni tratti o fermarsi a guardare il mare, guardare il panorama, le montagne, quindi è veramente un qualcosa di esclusivo che abbiamo solo noi e dobbiamo cercare di valorizzarlo al massimo.